Un bel applauso per i giocatori di Venezia e Sandole! Tecnico della SERP che ha deciso di partire con questi 11. Con il numero 1, Emil Aldero! Il numero 24, Bordoz Berezinski! Con il numero 15, Omar Cole! Rip È effettore di Venezia, un발ola forte, forte con tutti gli balloni e condimbirisciosi, Grazie a tutti. 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 Rete a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.